signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale e questa settimana andiamo a concludere la nostra esplorazione delle fazioni del mega dungeon per chi fosse arrivato nuovo su questo video non avesse seguito la serie l'anno scorso insieme alla community del canale abbiamo scritto l'ambientazione di un mega dungeon e quest'anno la stiamo popolando con varie fazioni di png la settimana scorsa nel video precedente abbiamo visto le fazioni native del mega dungeon questa settimana andremo a vedere le fazioni che sono arrivate dall'esterno una volta che il mega dungeon è stato scoperto e con le fazioni andremo a introdurre anche un nuovo aspetto dell'ambientazione una cronologia degli eventi dovrebbe essere evidente al titolo del video ma questo è il secondo video di una serie vi lascio quello della settimana scorsa linkato qua sopra andatelo a recuperare perché molto di quello che diremo questa settimana dipende da quello abbiamo detto settimana scorsa e se non l'avete visto rischiate di non capire qualcosa questa settimana introduciamo anche una variazione perché finora abbiamo visto sia il mega dungeon sia le fazioni all'interno del mega dungeon come delle entità permanenti fondamentalmente ne abbiamo avuto un ritratto fermo e congelato nel tempo abbiamo visto le cose come stanno questa settimana invece faremo le cose in una maniera leggermente diversa perché uno dei modi per dare verosimiglianza all'ambientazione è quello di pensare a tutti i suoi elementi nel nostro caso saranno le fazioni dei png non solo dal punto di vista della descrizione della geografia cioè chi sono come sono fatti e dove stanno ma dare anche una progressione temporale degli eventi in modo da creare una storia che giustifichi la loro presenza nel mondo reale qualunque organizzazione non è un'entità statica nel tempo ma ha avuto un inizio ha avuto uno sviluppo e magari ha avuto anche una fine e da quella si sono andate a creare altre organizzazioni che possono tutte tracciare una discendenza da quella anche le più grosse multinazionali attuali nella maggior parte dei casi hanno una storia che si estende solo per qualche decina di anni e per quanto ci siano religioni che sono vecchie di migliaia di anni nel corso di questi migliaia di anni hanno poi avuto le diatribe interne si sono divise in varie fedi discordanti alcune delle quali sopravvivono altre no altre sono state riassorbite la stessa cosa dove valere per i png del vostro mondo tutte le fazioni che esistono nel momento in cui i giocatori iniziano a giocare avranno comunque una storia a loro spalle e deriveranno da altre organizzazioni precedenti magari con varie organizzazioni ognuna delle quali si contende il diritto di essere considerata la vera discendente di una fazione originale sarà proprio questa l'ottica in cui andremo a parlare questa settimana delle fazioni che sono arrivate dal mondo esterno una volta che la scoperta del mega dungeon ha cominciato a diffondersi e sempre più gente è arrivata a esplorarlo le prime notizie sull'esistenza del mega dungeon cominciarono a emergere circa una ventina di anni fa quando alcune bande di avventurieri indipendenti scoprirono per prime le strutture congelate nel grande cratere che fa da tetto al primo strato e riportarono la notizia al mondo civilizzato per quanto ci fossero stati alcuni tentativi sporadici di esplorazione di alcuni dei piani nello strato più alto da parte dei piccoli gruppi di avventurieri il primo sforzo serio di esplorazione mappatura della megastruttura avvenne qualche anno dopo da parte di un grosso cartello commerciale chiamato la gilda della corona che sovvenzionò una spedizione in loco per creare un campo base che servisse da punto di partenza per l'esplorazione e come magazzino di rifornimento da cui sarebbe stato più facile trasportare merci grazie palloni aerostatici direttamente alle terre civilizzate dell'ambientazione per aumentare le loro possibilità di successo e per protezione nel caso ci fosse qualcosa di molto cattivo dentro il mega dungeon la gilda della corona stipulò un contratto con la compagnia delle bande rosse un'organizzazione paramilitare di mercenari conosciuti sia per il loro estremo professionalismo ed efficienza sia per il modo spietato in cui risolvevano ogni problema per il loro cliente ora che l'esplorazione procedeva in maniera sistematica e spedita vennero in pochissimi anni scoperti gli altri due strati del mega dungeon cominciò effettivamente a essere fatta una mappatura e soprattutto si intuì il potenziale delle grandi risorse minerarie dello stato più basso soprattutto per quanto riguarda i cristalli magici quindi la gilda della corona stipulò un accordo commerciale con il clan d'erro del monte dunking per stabilire un enclave nel livello più basso che appunto si dedicasse all'estrazione delle risorse dal dungeon questo accordo però saltò nel giro di pochi anni principalmente perché i derro e il monte dunking persero i loro saloni ancestrali dopo un colpo in stato in patria e quindi l'enclave locale rimase virtualmente isolata da quello che era il suo reale centro amministrativo diventando così un'entità indipendente i derro e i loro lavoratori per oramai siano stabiliti e quindi fu stipulato un nuovo accordo e l'enclave e i dulking sopravvive tutt'oggi ne abbiamo già parlato nel video precedente e diventerà anche uno dei giocatori più influenti nella storia del mega dungeon quasi contemporaneamente all'arrivo del clan dunking però dalla superficie arrivò anche una grossa spedizione dalla eccelsior explorer nominalmente una gilda indipendente di avventurieri estremamente conosciuta ma almeno all'inizio ci fu il grande sospetto che il loro arrivo in realtà non fosse come dichiarato per il semplice scopo di esplorazione e ritrovamento di possibili tesori nascosti nella struttura ma fosse stato finanziato dal regno di tessalonica e dal clan di draconici del drumnor che non erano esattamente tra i finanziatori della gilda della corona anzi avevano un interesse politico nel vedere la missione della gilda della corona fallire per quanto voci a riguardo sottraggiungono ancora oggi diciamo che il resto della storia dimostra che la gilda della corona non aveva bisogno di una mano in questo senso l'esplorazione del mega dungeon la scoperta dei suoi segreti e l'esportazione dei suoi artefatti ma soprattutto l'esportazione dei cristalli magici continuò a aumentare nei vari anni successivi furono scoperte mappate varie vie caroveniere che collegavano lo strato abissale con la superficie e nel secondo strato quello intermedio cominciarono a essere creati vari avamposti man mano che queste linee caroveniere si defilavano sia per fungere da stazioni di sosta di sorveglianza e anche da magazzini di interscambio dove venivano scaricate le merci che arrivano dal basso e magari scambiate con altre rifornimenti che arrivano dall'alto quindi intorno a questi primi magazzini cominciarono a esserci le prime guarnigioni e poi da lì cominciarono a svilupparsi veri e propri piccoli villaggi piccoli centri abitati nella giungla notturna del secondo strato ovviamente sia l'espansione delle miniere che l'espansione di questi piccoli villaggi richiedeva sempre più mano d'opera e sempre più gente arrivava nel mega dungeon sicuramente anche avventurieri singoli in piccoli gruppi bande indipendenti che speravano di fare il colpo grosso trovare l'artefatto leggendario la cui vendita li avrebbe sistemati per il resto della vita ma nella stragrande maggioranza dei casi si trattava di molto e meno eroici minatori o manovali generici che arrivavano per lavorare o negli strati più bassi o per le carovane e gli strati intermedi il mondo esterno era infatti letteralmente affamato sia delle conoscenze che venivano recuperate dagli antichi abitanti del dungeon sia dai cristalli magici per cui venivano praticamente quotidianamente trovate nuove applicazioni e che quindi presto raggiunsero dei prezzi esorbitanti e si creò un vero e proprio mercato nero questa richiesta di sempre maggiori materiali dal mondo esterno però col passare delle decadi cominciò a creare una condizione di vita e di lavoro del tutto insostenibile per chi si era trasferito dentro il dungeon e con questo cominciò a svilupparsi una sorta di sentimento di disprezzo nei confronti al mondo esterno che veniva visto come avido e indifferente alla condizione di chi effettivamente queste risorse gliele procurava il momento critico avvenne quando lo sciopero dei minatori nell'enclave dankir non riuscì a essere soppresso e causò una fuga dei lavoratori dalle miniere di questo abbiamo parlato nel video della settimana scorsa che portò fondamentalmente l'enclave a isolarsi ma in realtà le conseguenze furono molto più pesanti e si estesero per tutto il mega dungeon la notizia della repressione violenta arrivò ben presto ai villaggi del secondo strato e la conseguenza più clamorosa fu che il più grosso degli insediamenti che si era venuto a creare l'avamposto di arcadia fondamentalmente si ribellò alla gilda e la corona ne cacciò i rappresentanti e si dichiarò una città libera e indipendente sovrana nel suo territorio molto probabilmente le mire indipendentiste di arcadia sarebbero durate molto poco se non fosse che quando l'ordine di riconquistare la città arrivò alla guarnigione delle bande rosse che era baraccata in uno degli avamposti che sorvegliava fondamentalmente l'arteria di commercio principale una vera e propria roccaforte che difendeva il mondo esterno da qualunque pericolo che venisse dall'interno del dungeon il locale comandante della guarnigione da gorman farland non pensò che fosse molto più profittevole per lui non eseguire gli ordini della gilda della corona ma anzi schierarsi apertamente dalla parte dei rivoltosi assieme ai suoi uomini l'intera guarnigione delle bande rosse semplicemente rescisse il suo contratto dichiarando che non era preventivato nulla del genere loro non erano un esercito loro erano guardie di carovana a loro volta scacciarono i rappresentanti a gilda della corona e presero il controllo dell'avamposto fortificato che fu ribattezzato a mcfarland libertalia in onore di questo nuovo sentimento di libertà e di indipendenza che si stava diffondendo nel mega dungeon questo portò fondamentalmente la gilda della corona essere del tutto isolata da qualsiasi accesso agli strati più bassi del dungeon e la loro principale via di commercio e la fortezza che la doveva difendere adesso erano sotto il controllo degli insorti e il più grande avamposto all'interno del secondo strato da cui dipendeva la loro intera logistica oramai non era più sotto il loro controllo la gilda della corona non poteva fare altro che rivolgersi agli avventurieri dell'excelsior che all'unica altra forza armata presente nella regione ma l'excelsior fece un paio di schermaglie in realtà estremamente poco cruente contro le bande rosse poi si limitò a dichiarare che semplicemente la posizione non era espugnabile e questo andava al di là di quello che loro hanno abituati a fare avevano fatto tutto quello che potevano ora pagateci grazie arrivederci nella realtà è molto probabile che ci fu un qualche tipo di accordo sottobanco tra mcfarland e cladi eccelsior che era in quel momento a capo dell'intera spedizione dell'excelsior in modo da permette alla eccelsior di mettere le mani su cristalli altri beni che venivano esportati attraverso altri canali dal dungeon tramite le bande rosse e i due associazioni in questo modo non dovevano competere l'una con l'altra anzi entrambi ne avrebbero avuto un guadagno tagliando fuori da questo nuovo percorso del mercato nero la gilda e la corona la gilda e la corona a quel punto fu costretta a capitolare l'unica cosa aveva potuto fare sarebbe chiamare armati dagli stati in azione che era una cosa che gli stati non volevano fare e anzi al di là dell'impegno politico di organizzare una campagna militare contro un mega dungeon è qualcosa di estremamente complesso costoso è probabilmente assolutamente contrario a tenere buona la popolazione anzi meno si sa dei rivoltosi meglio è quindi capitolarono e stipulano degli accordi che permangono ancora oggi la gilda e la corona paga una percentuale per permettere alle sue carovane di attraversare il mega dungeon chiamata la tassa di libertalia qui fondamentalmente è costretta a rifornire i coloni nel mega dungeon di vestiti cibo e altri manufatti che loro non possono costruire autonomamente all'interno del dungeon in cambio del passaggio sicuro e della scorta alle sue carovane contemporaneamente McFarlane e le sue bande rosse strinsero un accordo con Arcadia per scambiare parte di questa roba che ricevevano come tributo alla gilda della corona con ulteriore cibo perché Arcadia aveva cominciato a rendersi indipendente anche sulla produzione aveva cominciato a coltivare la giungla e anche informazioni e magari artefatti recuperati tutto questo in cambio della protezione delle bande rosse che diventarono una sorta di forza armata informale della nascente nazione del mega dungeon rapidamente molti altri villaggi si fecero due conti che fossero d'accordo con gli ideali politici degli arcadiani o che semplicemente capirono che o si allineavano o venivano fondamentalmente tagliati fuori dal resto del mondo quindi l'alleanza intorno ad Arcadia cominciò ad allargarsi e prima uno poi l'altro tutti gli altri insediamenti del secondo strato in un modo o nell'altro finirono o sotto l'egida di Arcadia o direttamente diventarono delle succursali delle bande rosse soprattutto quelli lungo la via carovaniera dove effettivamente c'era la maggior parte degli armati stanziata tra i gruppi che entrano a far parte di questa informale alleanza del sottosuolo c'è poi da sottosuolo allineare la presenza di un gruppo di elfi nominalmente appartenenti all'accademia delle scienze di attack che si unirono alla nascente nazione in quanto puri studiosi e dichiarano di essere lì nel puro interesse scientifico volevano fare ricerca sul mega dungeon non erano politicamente allineati e quindi erano più che disposti a collaborare sia con le bande rosse che con gli arcadiani in cambio avrebbero potuto fornire la loro esperienza la magia arcana che effettivamente era quello che mancava alla nascente nazione di per sé nulla di strano se non fosse che nessuno ha mai sentito parlare all'accademia delle scienze di attack e in realtà anche nei registri delle bande rosse non è mai stato trascritto l'arrivo di questo particolare gruppo di esploratori che in realtà è decisamente ben nutrito e quindi qualcuno dovrebbe ricordarsi che in qualche modo si è entrato nel mega dungeon ma in realtà nessuno può dire con certezza da quando questa gente fosse qui a dieci anni dall'insurrezione originale dei minatori e quindi a più di vent'anni dalla scoperta del dungeon tutti i lavoratori che sono scappati dall'enclave dei derro si sono frammentati in una miriade di piccole bande organizzazioni che si sono disperse nel terzo strato a cui poi si sono uniti anche criminali in fuga e altri esiliati dalle nascente nazione nel secondo strato e anche bande di avventurieri che sono arrivati indipendentemente dal mega dungeon e poi hanno scelto di farlo diventare la loro nuova casa ma stiamo parlando di quel tipo di avventurieri che non è molto ben visto all'interno dei regni civilizzati mettiamola così alcuni di queste bande vivono in maniera relativamente pacifica e hanno creato a loro volta dei piccoli insediamenti una per tutte e il villaggio degli esuli formato originariamente da un gruppo di minatori fuggiti dall'encave d'ulkin a cui poi si sono uniti alcuni disertori delle bande rosse che non erano particolarmente d'accordo con la nuova linea politica di mcparlan hanno comunque creato un loro piccolo villaggio e dato vita a una loro minuscola industria mineraria hanno trovato una loro vena indipendente di cristalli e sembrano passasse anche relativamente bene soprattutto per via del fatto che l'accessor explorer ha trovato molto interessante avere una possibile seconda fonte di cristalli per il loro commercio alternativo altre invece non sono mai riuscite a trovare una vera e propria stabilità sociale sono degenerate in vere e proprie bande di predoni alcune estremamente famigerate come quella dei briganti neri che si sono specializzati in attacchi di imboscata lungo le principali vie canovaniere e sono uno dei principali pericoli del secondo strato e del terzo strato per quanto riguarda i viaggiatori altri in maniera minore diventando più che altro un fastidio come il gruppo di goblinoidi dei razzatori del fuoco che vive nelle parti più isolate dei laghi magmatici del secondo strato e attacca virtualmente chiunque sembri almeno in apparenza abbastanza debole da essere facilmente sottomesso hanno cominciato però a diffondersi voci del possibile organizzazione di una sorta di alleanza tra alcune bande di predoni soprattutto la tribù dei rodi ossa e la tribù del sangue già particolarmente famigerate sia per la loro estrema violenza sia per l'interesse in alcuni aspetti più esoterici dell'arcanismo presente all'interno del dungeon e probabilmente di un terzo gruppo di cui si conosce estremamente poco ma cui gli abitanti del secondo strato fanno riferimento genericamente come ai demoni non si sa bene quale sia l'esatta natura di questa alleanza se si tratti di un unico gruppo coerente o semplicemente di azioni indipendenti che avvengono per coincidenza tutto nello stesso periodo ma varie tribù tra le più degenerate del terzo strato hanno cominciato a farsi molto più bandazzose e alcuni ai loro attacchi sono stati seguiti o almeno durante l'attacco erano presenti alcuni arcanisti estremamente potenti che erano facilmente riconoscibile per l'estremo pallore del loro incarnato in maniera non dissimile a quello degli sciamani degli uomini lucertola che si tratti di un gruppo di arcanisti di un singolo stregone che si stia alleando con varie persone non è dato saperlo ma quanto pare la loro ferocia non è seconda a nessuno e avendo aggiunto non solo una cronologia degli eventi ma anche un po di turbolenza politica al mega dungeon possiamo dire che il nostro lavoro per questa stagione finisce qui diciamo che adesso abbiamo quasi una mezza dozzina di fazioni con delle varie sotto fazioni a loro volta quindi c'è abbastanza materiale tra quello procurato quest'anno e quello che avevano già scritto l'anno scorso per ambientare nel mega dungeon una campagna che potrebbe durare degli anni quindi possiamo ritenerci soddisfatti io voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito in un modo o nell'altro alla creazione di questa ambientazione in particolare andrea donati don vecchi roccone il generale marc anzon e calci che sono quelli che hanno contribuito con più robe quest'anno senza i loro questi video non sarebbero stati fatti quindi ringraziateli anche voi il progetto collaborativo però non termina qui perché come avevo già anticipato settimana scorsa ad agosto avremo una serie di video speciali per la rubrica dello scrivere una storia in cui andrò a fare l'analisi di tutto il materiale arrivato spiegherò il perché delle scelte che sono state fatte e forse ci sarà anche una sorpresa però per adesso non so ancora nulla neanche io quindi non vi premetto nulla di specifico adesso la parola sta a voi scrivetemi qui sotto nei commenti se vi è piaciuto come organizzato la cronologia del dungeon se avreste fatto qualcosa di diverso come voi organizzate le vostre cronologie per le vostre fazioni o se non lo fate e in realtà fate un mondo perfettamente statico perché è più semplice come sempre se avete domande e dubbi e perplessità lasciate anche quelli nei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo chiusa crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano io metto manualmente i link ai video sul server di discord e sul gruppo telegram e trovate i link per unirvi a quelli qui sotto e tra l'altro lì è dove si riunisce la comunità del canale che poi sono le stesse persone che producono tra le varie queste cose come sempre io sono il mastercae e noi ci vediamo per il finale di stagione